Ok, buongiorno a tutti. Oggi vediamo insieme una prova d'esame di nuovo, ma ci concentreremo principalmente sul secondo punto di questo esame, che era una simulazione. Ok, abbiamo iniziato le simulazioni da poco e quindi oggi facciamo un esercizio su questo, prendendo una simulazione stile esame. La prova è del 2017 e utilizza il database Country Borders. In particolare il punto 1 di questo esame, eccolo qua, è esattamente uguale a quello che avevate, se non sbaglio, nel laboratorio 9. Quindi lo stesso grafo da creare, infatti nel progetto base di questo esercizio che trovate su GitHub c'è già il grafo creato, ok? Perché l'avete già fatto. Quindi il grafo non orientato, non pesato, dove gli archi rappresentano i confini di tipo terra. Esattamente il laboratorio 9. Ho lasciato da fare nel progetto base, lo facciamo insieme, il punto C, che può essere utile vedere come risolverlo, così chi non l'ha fatto nel laboratorio ne può prendere spunto. Tanto sarà velocissimo. E poi ci sarà tutto il punto 2, che è appunto una simulazione che vedremo insieme. Partiamo da questo punto C, che è ancora da fare. Che cosa ci chiede questa parte finale del primo punto? Ci chiede di stampare l'elenco degli stati, ci indica anche che cosa stampare, quindi l'abbreviazione e il nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti, secondo il grafo creato. L'elenco in particolare deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Quindi ci dice veramente tutto, sia che cose dobbiamo stampare e come l'output va ordinato in questo caso. D'accordo? Mi apre solo la chat, così se ci sono domande le vedo. E vado su Eclipse, spero che abbiate potuto fare l'import del progetto e in particolare nel modello. Vedete qua c'è già il crea grafo. Aggiungiamo i vertici, ci recuperiamo le adiacenze con l'acquiri esattamente la stessa del laboratorio 9 e aggiungiamo gli archi. Se volete potete darci un'occhiata, ma non c'è niente di nuovo. Proviamo a risolvere insieme il punto C. Che cosa dobbiamo ottenere? Beh, direi dobbiamo riuscire a ottenere una lista in cui ogni elemento di questa lista contiene, deve contenere due informazioni. Uno stato e il numero di stati confinanti. D'accordo? Allora potremmo farlo in molti modi. Un modo potrebbe essere di prevedere una mappa, ad esempio. Quindi non una lista ma una mappa di country e integer. Questo potrebbe essere un primo modo. Ma non voglio fare questa soluzione per due motivi. Il primo è che noi vogliamo questo elenco di dati ordinato. D'accordo? Quindi se noi andiamo a usare la nostra solita hash map, questo concetto di ordinamento non ce l'abbiamo. Dovremmo usare un altro tipo di mappa, ad esempio una tree map, che però non abbiamo mai usato. Seconda cosa perché quello che andremo a fare adesso, quindi crearci una classe temporanea che permette di contenere queste due informazioni, ci servirà anche per il punto 2. Quindi al posto di una mappa io posso prevedere di ritornare una lista che potrò ordinare di che cosa? Di oggetti di una specifica classe che andiamo a crearci adesso. Chiamiamola country and number, non lo so. Ci indica che oggetti di questa classe andranno a contenere un country e un numero. get countries, no, non lo so come chiama, get country and numbers. Quindi andiamo a crearci questa classe, direi che va bene crearsela nel package model, quindi new. class, country and number. E come detto questa classe avrà semplicemente due attributi, un country e un numero. Evito di chiamarlo vicini, ma do un nome un po' più generico perché come detto questa classe la riutilizzerò anche dopo e quindi preferisco chiamare questi attributi in un modo un po' più generico, in modo tale che poi questa classe possa adattarsi meglio dal punto di vista di leggibilità del codice a quello che ne farò dopo. Questo può essere un'integra, un int, fa lo stesso. Creiamoci il costruttore, source, generate constructor using fields, tutti e due i campi. i get receptor, source, generate get trendsetters, perfetto. Dopodiché questi abbiamo detto che vogliamo l'output ordinato e per questo motivo è bene far sì che questa classe implementi, implements comparable di country and number, arab, manca un l. Quindi dobbiamo farci generare i metodi non implementati, in questo caso uno solo, il compare to, e vogliamo ordinare questi dati per un ordine decrescente per numero. Quindi dobbiamo agire su questo attributo number, possiamo per esempio, visto che è un intero, fare una semplice sottrazione tra l'attributo di questa classe nel this e o.get number. Oppure meglio, se vogliamo fare le cose un po' più leggibili, un po' più stile programmazione ad oggetti, quindi definiamo questo attributo come integer e usiamo il compare to della classe integer che è già implementato. E quindi, ad esempio, o.get number.compare to this.get number. D'accordo? Perché mi dà questo errore? Ah, manca il return, ovviamente. Va bene, abbiamo definito la nostra classe di supporto, torniamo di qui, e quindi qui posso appunto ritornare una lista di country and number. Allora, io mi creo questa lista, che inizialmente sarà vuota. Result. Linked list, va bene. Poi la riempirò, in qualche modo, e prima di ritornarla, return result, la ordino, quindi collections.sort di result. Alessandro chiede se posso rimettere un attimo il compare to, certamente, eccolo qua. Ora, io non mi ricordo mai qual è l'ordine per fare crescente o decrescente. Se non mi sbaglio è questo. Se per caso l'output sarà in ordine crescente, basterà invertire o con this. Sì, posso ingrandire un po' il model, come chiede Massimiliano. Eccoci qua. Riempiamo questa lista, come facciamo? Dobbiamo prendere tutti gli stati presenti nel grafo e andare a vedere quanti sono, diciamo così, i vicini. Allora, come possiamo fare? Per recuperarci tutti i country presenti nel grafo, posso usare il vertex set del grafo che avrò creato in precedenza. Quindi for country c in this.graph.vertex set. Ciclo su tutti i country. E per ogni country devo vedere quanti sono i suoi vicini. in modo tale da poter dire result.add un nuovo oggetto new country and number per cui il country sia c e il numero sia quello o quello da calcolare. Allora, anche qui ci sono n modi per calcolare in questo grafo non orientato il numero dei vicini. Potremmo prendere i vicini con un neighbor list of e fare punto size oppure c'è il metodo this.graph.degreeOf. DegreeOf in un vertice non orientato e il numero ci restituisce il numero di archi che toccano il vertice. In sostanza ci dice quanti archi escono da questo vertice e di conseguenza quanti vicini ha questo vertice. Quindi va benissimo usare questo metodo degreeOf sì. Giorgia chiede in un grafo orientato cosa restituirebbe? Vediamo se la documentazione ce lo dice. Sì, ce lo dice. In grafi diretti, quindi orientati, questo metodo ritorna la somma del grado in entrata e del grado in uscita. Quindi in sostanza ci dice il numero di archi che toccano il vertice, però indipendentemente dal fatto che sia un arco in uscita o un arco in entrata. Quindi poi non riesci più a distinguere quali di questi archi entrano o escono dal nodo. Quindi direi che questo metodo è utile soprattutto per grafi non orientati. E basta direi. Dovremmo avere tutto. Sì, il testo ci dice anche come stampare queste informazioni. Ci dice di stampare l'abbreviazione, il nome e il numero. Beh, allora potremmo pensare di ridefinire in country and number una toString adatta in modo tale che poi faccia tutto lui. Quindi source, generate toString, poi la modifichiamo, cancello questo e la scrivo come voglio io. Quindi stampiamo prima l'abbreviazione dello stato, quindi country.getStateHub più magari uno spazio o un trattino più il nome dello stato country.getStateName perfetto più di nuovo magari un uguale e il numero, quindi number. così quando stamperemo oggetti di questa classe la toString sarà come la vogliamo noi. Giovanni giustamente dicono, dice che in un grafo orientato esistono i metodi in degree of e out degree of per capire quali sono, quale numero di archi uscenti e il numero di archi entranti. abbiamo tutto scusate, abbiamo tutto per poter collegare questo metodo del modello al controllore, quindi vado sul controller, come vedete anche qui è già abbastanza riempito di codice. prendiamo già l'anno come input, creiamo già il grafo, qui dobbiamo collegare il metodo che stampi nella casella di testo tutti gli stati con il numero dei loro vicini. Quindi list, country and number. vi faccio dare questa lista vicini, ma non chiamiamola vicini che forse trae un po' in inganno, chiamiamola result uguale model punto get country and numbers, il metodo che abbiamo fatto adesso. Importiamo un po' di cose, country, allora prima la lista, attenzione sempre importare la lista da java punto util e poi country and number e poi per ognuna di queste righe di questa lista, diciamo così, lista che dovrebbe già essere ordinata se abbiamo fatto tutto bene, stampo semplicemente, quindi for country and number c in result e allora faccio txt.append, no, txt, txtresult punto append text di c punto to string più uno slash n finale. D'accordo? proviamo a lanciare e vediamo se abbiamo fatto tutto in modo corretto, lancio il main, mettiamo l'anno, che ne so, 2000, ok, non ci sono errori e vediamo che i dati effettivamente sono ordinati in ordine decrescente per numero di vicini, e quindi il nostro compare to era, aveva l'ordine, l'ordine corretto. Ok? Quindi vedete questo ultimo punto del punto uno si risolve in modo abbastanza facile con poche righe di codice. Detto questo, passiamo al punto saliente di oggi che è la simulazione. Riapro il testo e cerchiamo di leggere insieme questa simulazione. Sia chiaro, la simulazione ovviamente parte dal grafo che abbiamo appena creato. Quindi si vuole simulare la diffusione di una serie di mille persone, mille migranti che vengono, che arrivano in uno stato iniziale, stato che può selezionare l'utente, al tempo t uguale a zero e che questi migranti poi si spostano tra gli stati modellati dal grafo secondo le regole enunciate qui. Allora, al tempo iniziale t uguale a uno tutti questi mille migranti arrivano nello stato iniziale, quello selezionato dall'utente. Dopodiché, ogni volta che dei migranti entrano in uno stato compreso al tempo t uguale a uno, quindi compreso nel primo evento e poi negli eventi successivi, immediatamente il 50% di tali persone diventano stanziali, vuol dire che si fermano in quello stato. Quindi, al tempo t uguale a uno, 500 migranti diventeranno stanziali residenti, diciamo così, dello stato selezionato dall'evento. Il rimanente 50% di queste persone, approssimato per difetto, si muove e si sposta negli stati confinanti. Quindi, ad ogni istante di tempo t più uno, la popolazione non stanziale di ciascuno stato si sposta e si divide in parti uguali, anche qui approssimate per difetto, tra tutti gli stati confinanti. C'è anche un esempio, se in uno stato ci sono 40 persone non stanziali, quindi che si devono muovere, quindi se ci sono 40 persone vuol dire che in quello stato che si muovono ne erano arrivate 80, quindi 40 diventano stanziali, le altre 40 si muovono, supponiamo che questo stato abbia 3 stati confinanti, in ciascuno stato confinante si spostano allora 13 persone, perché facciamo 40 diviso 3 e prendiamo il risultato, mentre il resto della divisione, in questo caso 1, la 40esima persona rimane stanziale, ok? Come caso particolare potrebbe capitare che il numero di persone che si devono muovere a un determinato tempo t è inferiore al numero di stati confinanti, ok? Supponiamo ci sono 7 stati confinanti e le persone che si devono spostare sono 6, in questo caso nessuno si sposta, diventano tutti stanziali. Nella scelta degli spostamenti tutti gli stati confinanti quindi avranno lo stesso numero di persone che arriveranno al tempo successivo e quindi è possibile attenzione che alcune persone ritornino indietro al tempo t più 2 nello stesso stato in cui erano arrivati al tempo t, però questo è un fenomeno normale e non deve essere il testo ci dice trattato in nessun modo particolare. Direi che è tutto perché poi l'ultimo punto è solo un riassunto ad ogni passo della simulazione il numero di persone ancora non stanziali quindi che si muovono si riduce di almeno il 50% e pertanto a un certo punto la simulazione si esaurirà perché tutti saranno divenuti stanziali ed è quello il punto a cui vogliamo arrivare. Quando arriviamo a quel punto in particolare vogliamo stampare due cose il numero di passi t simulati e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato ed il numero di persone presenti che sono diventati residenti di quello stato e l'elenco anche qui il testo ci dice deve essere in ordine decrescente di numero di persone ok domande sul testo come al solito a primo impatto sembra lungo complicato eccetera in realtà vedremo che è abbastanza semplice importante seguire bene le specifiche individuare il modo giusto per poterlo risolvere se non ci sono domande io partirei con la con la risoluzione quindi mi riapro Eclipse e direi che può essere utile crearci nel model una classe a parte simulatore dove andremo a inserire tutto il codice relativo alla alla simulazione quindi nuova classe simulatore perfetto allora dobbiamo sempre ragionare su un insieme di cose innanzitutto sul modello ovvero qual è lo stato del sistema ad ogni passo poi possiamo ragionare sui tipi di evento quindi questo influirà sulla coda prioritaria abbiamo poi i parametri della simulazione quello che riceviamo dall'esterno per poter simulare il nostro il nostro esercizio e poi i valori in output quello che dobbiamo restituire alla fine della della simulazione allora partiamo dai valori in output che sono i più facili da identificare il testo ci chiede di riportare il numero t di passi simulati bene allora prevediamo private int t che possiamo impostare inizialmente a meno uno e poi questo verrà sovrascritto col numero di passi che simuliamo e poi il testo ci chiede una lista di informazioni in cui ogni elemento della lista no più che una lista possiamo pensare una struttura dati più furba il testo ci chiede un elenco di coppie country e persone divenute stanziali in quel paese allora per il momento proviamo a pensare una mappa country integer anche se qui come per il punto che abbiamo fatto in precedenza c'è poi sempre il problema dell'ordinamento quindi se non lo facciamo qui perché usiamo una mappa lo dovremmo poi fare dopo però va bene va bene anche come dice Alessandro avere subito una lista di country and number non so al momento quale sia la soluzione migliore perché forse la mappa potrebbe aiutarci in qualche passo della simulazione ma vediamo dopo nel caso cambiamo poi questo attributo in una mappa chiamiamo stanziali ok queste sono le due cose che dobbiamo ritornare al modello che ci chiamerà poi un'altra cosa facile da identificare sono i parametri della simulazione qui il testo ci dice esplicitamente che partiamo con mille persone va bene quindi stabiliamo un attributo private int n migranti uguale mille altro parametro che avremo sarà sicuramente lo stato di partenza che l'utente selezionerà private country partenza fin qui tutto molto facile qual è il modello lo stato del sistema ad ogni passo beh qui è una simulazione che si basa fortemente sul grafo che abbiamo creato dato il grafo noi abbiamo le informazioni che ci servono no perché ad ogni passo della simulazione per ogni evento noi avremmo uno stato alcune persone che si devono spostare e dove si spostano nei vicini di quello stato ok e noi questa informazione sui vicini ce l'abbiamo appunto nel grafo che diventa il modello della nostra simulazione quindi sicuramente il modello il model la classe model ci passerà un riferimento al grafo creato in precedenza graph country default weighted edge in realtà non era un grafo pesato infatti è un default edge perché non c'erano pesi sugli archi grafo importiamo un po' di classi ed ecco qui e poi abbiamo i tipi di evento in particolare la coda prioritaria private priority queue evento una classe che non ho ancora dovrò andarla a fare queue importiamo priority queue e solo un ragionamento che mi è venuto in mente stamattina grazie alle domande di uno di voi su questa priority queue quando è necessaria e quando no voi avete visto questo pattern di programmazione per la simulazione che sfrutta appunto questa coda ma non è detto che questa coda sia fondamentale nel laboratorio di questa mattina ad esempio si poteva benissimo fare una soluzione senza questa questa coda perché quello che si andava a simulare erano tutte le misurazioni di un determinato fiume potevano che queste misurazioni potevano essere ordinate per data e quindi una soluzione semplice era quello di fare un banalissimo ciclo for su queste misurazioni dato un fiume prendo tutte le sue misurazioni quindi for fiume punto get flow ok flow in river punto get flow scusate facevo un ciclo for e simulavo tutte queste cose quando è che una priority queue diventa fondamentale? quando nella nostra simulazione noi andiamo ad aggiungere degli eventi mentre stiamo simulando allora nel laboratorio di oggi il numero di eventi era fisso ed era dato dal numero di misurazioni di un fiume e non si scatenavano altri eventi durante la simulazione qui invece il numero di eventi non è fisso a priori ma cambia e ad esempio ogni volta che delle persone arrivano in uno stato io genero degli altri eventi degli altri eventi che mi indicano il fatto che queste persone si muovono allora in questo caso la coda diventa fondamentale ci semplifica molto la vita perché a noi basta inserire nella coda e poi prendere un evento per volta d'accordo mentre in altri casi più semplici dove non c'è una creazione di evento durante la simulazione la coda diventa superflua detto questo non è sbagliato averla usata per il laboratorio va benissimo però si possono prevedere anche soluzioni che non prevedono la coda prioritaria quindi se in una soluzione proposta vi trovate una soluzione senza coda sappiate che il motivo è questo d'accordo qui la coda ci va però perché appunto ci sarà una generazione di eventi durante la simulazione eventi che saranno di classe evento quindi nel package model vado a crearmi la mia classe evento allora ragioniamo quanti tipi di evento di quanti tipi di evento abbiamo bisogno in questo caso secondo voi ce ne basta uno dobbiamo averne di più allora io direi ok ok Manuel propone gli spostamenti e la decisione di diventare stanziali e Giovanni propone una soluzione simile stanziamento e spostamento ok potrebbe funzionare secondo me non vale addirittura la pena dividere in due ma possiamo fare tutto in un unico evento quindi potremmo prevedere l'evento di n persone arrivano in uno stato questo è l'evento quando questo succede io nel mio modello decido cosa fare quindi prendo il numero di persone che sono arrivate e le divido tra i vari stati generando altri eventi di tipo n persone arrivano in uno stato quindi in questo evento semplicissimo potrei avere un riferimento al tempo t e questo sarà anche l'attributo su cui ordinerò questi eventi un riferimento a uno stato e un attributo che mi indichi il numero di persone che sono arrivate al tempo t nello stato country questo secondo me è l'unico evento che ci serve nel modello per poi fare le nostre elaborazioni quindi n persone al tempo t arrivano in country e io nel modello dirò ok 50 di queste diventano stanziali il 50% il restante 50% lo divido negli stati vicini creando un evento per ogni stato vicino questo potrebbe essere un ragionamento che ci permette di evitare più tipi di evento di fare tutto semplicemente con un unico un unico tipo quindi creiamoci il costruttore il concetto è quando c'è una soluzione semplice quando riesco a pensare una soluzione semplice meglio perché evito di inserire errori e tutto diventa più più lineare ok ho creato i getter e i setter ora creo anche il costruttore eccolo qua con tutti i campi e cosa fondamentale visto che questi eventi andranno a finire in una priority queue è che questi eventi siano ordinati la priority queue li ordina in automatico a patto che questa classe implements comparable e cosa andiamo a mettere nel metodo compareTo beh dipende dall'attributo dall'attributo che abbiamo su cui vogliamo fare l'ordinamento in questo caso lo facciamo sul tempo t che è un intero int quindi banalmente non posso usare il compareTo in questo caso di t perché è un intero e non un integer ma posso fare ad esempio return dis.t meno o.t eh sì quindi facendo questa differenza ritorno un valore maggiore di 0 minore di 0 uguale a 0 a seconda dei valori presenti negli attributi t detto questo come prima qua potete prevedere un integer e usare il compareTo di integer è lo stesso ok allora torniamo sul simulatore e direi che abbiamo tutto il necessario per per iniziare dunque possiamo prevedere un metodo esempio public void init che servirà per inizializzare il nostro simulatore quindi verrà chiamato dall'esterno questo metodo riceverà ad esempio i parametri della simulazione e li imposterà all'interno del simulatore quindi riceveremo sicuramente un country il country di partenza e anche abbiamo detto un riferimento al grafo che altrimenti il simulatore non può conoscere quindi graph country default edge grafo ora si stiamo un attimo andiamo magari qui a capo importiamo un po' di cose qua ho sbagliato a scrivere country e qui manca una parentesi tonda ok Beatrice chiede quindi non ci serve le num event type perché abbiamo un solo evento esattamente poi dopodiché se prevedete più eventi non è sbagliato di per sé a quel punto è bene avere l'event type che discrimini i tipi di eventi però per me è più semplice procedere in questo modo Manuel chiede se posso far rivedere un secondo il compartù certo di evento eccolo qua una semplice meno quindi se dis.t è più grande ritorneremo un valore maggiore di 0 se sono uguali ritorniamo 0 se dis.t è più piccolo ritorniamo un valore minore di 0 che è quello che serve alla compartù ok no siamo nel simulatore allora cosa facciamo in init beh impostiamo i parametri quindi dis.partenza uguale il country che ci viene passato dall'esterno il numero di migranti è fisso è 1000 va bene ce lo dice il testo possiamo fissare anche dis.grafo uguale grafo prendiamo quello che ci arriva e ce lo salviamo qui internamente poi possiamo impostare imposto lo stato iniziale che cosa dobbiamo fare dobbiamo creare le nostre strutture dati ad esempio la mappa degli stanziali che dobbiamo poi ritornare e possiamo anche impostare inizialmente il valore t a 1 almeno un passo lo simuliamo dis.t uguale 1 e poi creo la mia stanziali uguale mu linked list di country and number e io arrivato a questo punto mi accorgo che forse abbiamo fatto una scelta sbagliata per quanto riguarda il tipo di questo stanziale perché dico questo perché mi immagino che durante la simulazione io debba modificare mano a mano il numero di persone stanziali di un determinato stato anche perché le persone possono anche tornare indietro e quindi probabilmente il numero di persone stanziali in un posto aumenterà con l'andare del tempo non lo so io ho mille persone nello stato x queste mille si dividono e in un certo punto della simulazione alcune di queste persone tornano indietro e ritornano nello stato x e diventano a loro volta stanziali e quindi dovrò incrementare il numero di persone stanziali per lo stato x mano a mano allora questo come si risolve in modo facile si risolve con una mappa giusto in modo tale che io possa avere un metodo veloce istantaneo per recuperarmi un paese data la chiave e cambiarne il valore il numero di persone stanziali avendo solo una lista io dovrei tutte le volte scorrere questa lista andando a cercare il country and number che ha quello specifico country e questo diventa molto pesante dal punto di vista computazionale quindi per questo motivo anche se questa scelta aveva senso per l'ordinamento è meglio prevedere una mappa di country e ad esempio integer e poi questo ordinamento farlo in seguito d'accordo giorgio chiede quindi al posto della classe country and number converrebbe fare una mappa no 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 la classe country and number rimane quella che è l'abbiamo usata prima e la useremo probabilmente anche dopo nel senso che noi potremmo poi prendere tutti i valori che sono presenti in questa mappa creare dei country and number metterli in una lista e ordinare quindi la riutilizzeremo quella quella classe però per il momento dal punto di vista della simulazione è meglio avere una mappa Enrico chiede se posso ripetere il motivo il motivo è che mi immagino che durante la simulazione io debba modificare mano a mano questa questa struttura dati perché perché abbiamo letto che le persone durante la simulazione si muovono ma possono ritornare anche in uno stato in cui c'erano già stati d'accordo e diventare stanziali in quello stato e quindi il numero di persone stanziali varia durante la la simulazione quindi dobbiamo avere un modo rapido veloce efficace per poter avere questo elenco di stati e poterne cambiare il valore il valore di persone stanziali che cresce nel tempo e beh e questo come si fa è il modo più semplice avere una mappa in cui la chiave è lo stato ok devo modificare il numero di persone stanziali in questo stato faccio una get sulla mappa di quel country e modifico il valore con una lista invece tutte le volte scorrere la lista per trovare il mio country number corretto d'accordo quindi questo diventa un hash map e che importiamo non so se mi sono spiegato spero di sì e quindi noi questa mappa come la inizializziamo no e quindi potremmo prevedere una mappa in cui mettiamo tutti gli stati presenti nel nostro grafo dis.grafo.vertex7 e inizialmente impostiamo il numero di persone stanziali a zero stanziali.put country zero ecco qui che si vede bene il motivo della mappa noi la inizializziamo noi la inizializziamo con tutti i paesi con persone stanziali uguale a zero e mano a mano che la simulazione andrà avanti questi valori cambieranno e si incrementeranno ed è sarà facile modificarli proprio perché abbiamo abbiamo la mappa poi sempre nell'inizializzazione creo la coda al solito adesso la priority queue è vuota quindi faccio dis e nulla scusate dis.queue uguale new priority queue di evento sì come Giovanni mi fa notare nella put c'è c e non country questo c qui grazie quindi ho creato la coda e inserisco il primo elemento il primo evento scusate ok io mi immagino che il primo evento dis.queue .add un nuovo evento in cui il tempo è t quindi t uguale a 1 primo evento nello stato partenza arrivano n migranti questo è l'evento che dà in là alla mia simulazione quindi nello stato selezionato dall'utente al tempo t uguale a 1 arrivano n migranti quindi mille persone questo è l'evento iniziale vedete che la coda qui non contiene n mille eventi ne contiene uno perché appunto la coda si riempirà di eventi durante la simulazione e questo è la vera differenza con il laboratorio dove noi gli eventi ce li avevamo già tutti all'inizio qui no qui vengono generati dinamicamente diciamo così durante la simulazione ed è questo il motivo per cui è fondamentale la coda perché ci semplifica molto la vita questa è l'inizializzazione e poi abbiamo possiamo avere un metodo public void run quindi chiamo l'init e poi il run a partire da questo evento lancio tutta la simulazione quindi finché la coda no si suota prendo un evento per volta e lo eseguo quindi il pattern è abbastanza chiaro evento e while provo a prendere un evento e metterlo nella variabile e quindi e uguale dis.q .pol e se per caso questa roba qui è diversa da nulla farò qualcosa simulo l'evento e altrimenti quando non ci sono più eventi questa cosa qui ritornerà null e io non entrerò più in questo while ma tutto finirà quindi arriverò fuori fuori dal ciclo while e come faccio a simulare l'evento e l'evento e mi dice che al tempo t che possiamo prendere da e.gett sono arrivate n persone e.getn nello stato e.getcountry quindi recuperiamoci innanzitutto il numero di persone n persone uguale e.getn e magari anche lo stato sulla base di queste due informazioni facciamo quello che dobbiamo fare in particolare dobbiamo innanzitutto recuperarci i vicini di questo stato no i vicini di questo stato saranno gli stati in cui le persone si potranno spostare quindi ottengo i vicini di stato ebbene questa informazione come già detto prima la posso ottenere dal grafo list country uguale vicini uguale dis.grafo punto anche qui n modi di farlo non questo che sto facendo un modo di farlo è passare dalla classe graphs punto neighbor list of neighbor list of a cui possiamo passare il grafo dis.grafo fatemi andare a capo se non si capisce più niente e il vertice di cui vogliamo calcolare i vicini che in questo caso è stato grazie ai vicini possiamo calcolare quante persone in teoria si devono muovere e soprattutto possiamo calcolare quante persone vanno a finire in ogni stato allora abbiamo detto che il numero di persone che si spostano è pari al 50% mentre il rimanente il 50% diventa stanziale quindi possiamo dire che n persone fratto 2 si spostano sicuramente di queste persone cioè queste persone che vengono calcolate in questo modo si dividono in parti uguali negli stati vicini quindi il 50% si divide in parti uguali nei vicini e come facciamo a calcolare questo numero facendo ancora una divisione per vicini punto size quindi queste sono il numero di persone che finiscono in ogni stato vicino chiamiamole migranti per stato è chiaro quello che ho fatto ho preso il 50% delle persone e ho calcolato quante finiscono in ogni stato si dividono in parti uguali e quindi ho diviso per vicini punto size il testo ci dice che c'è un caso particolare in cui il numero di persone che si che vanno a finire in ogni stato no diciamola così il caso particolare è questo quando il numero di persone che arrivano è minore del numero di vicini non tanto quelle che arrivano ma quelle che si spostano quindi quando il 50% è minore del numero dei vicini in questo caso nessuno si sposta allora quindi quando questo valore è minore del numero dei vicini ok questa divisione troncata intero ci darà sicuramente zero è chiaro questo se abbiamo supponiamo n persone quelle che arrivano queste qui uguale a 10 persone che si spostano 5 quindi n persone fratto 2 6 vicini quindi vicini punto size sono 7 noi abbiamo che sicuramente migranti per stato è uguale a 0 perché 5 diviso 7 dà 0 col resto di 5 quindi ovviamente se questa divisione poi la salviamo in una variabile intera quindi possiamo controllare questo caso limite che il testo ci dice if migranti per stato maggiore di 0 quindi se migranti per stato è maggiore di 0 vuol dire che c'è almeno una persona che può finire in ogni stato altrimenti non facciamo niente perché quindi non c'è neanche una else nessuno si sposta diventeranno tutti stanziali quindi qui le persone si possono muovere e come si muovono lo possiamo simulare creando un nuovo evento per ogni vicino quindi for per tutti i vicini country ci chiamiamo la confinante se no facciamo casini con le variabili for country confinante in vicini e io vado a creare un evento e ad aggiungerlo alla coda q.add new evento di che cosa? dobbiamo specificare il tempo il tempo sarà e.get t quindi il tempo dell'evento che sto simulando adesso e.get t più uno si sposteranno queste persone nello stato confinante e quante persone si sposteranno migranti per stato per stato quindi come vedete ho creato un nuovo evento per ognuno degli stati confinanti simulando il fatto che il numero di persone calcolato salvato i migranti per stato si sposti in questo stato confinante al tempo t più uno quindi la coda si si riempie allora ci sono alcune domande nella chat ma vedo che vi siete già risposti tra di voi Mattia chiede se mettendo into sempre un troncamento per difetto sì esatto è quello che succede arrivato qui posso salvarmi posso sapere quante persone sono divenute stanziali questo numero non è semplicemente n persone diviso 2 cioè in alcuni casi potrà esserlo ma in altri casi limite come questo sarà più del 50% perché ci sarà il 50% più le persone che non sono riuscite a spostarsi è chiaro questo? quindi in questo caso avevamo n persone 10 5 che si spostano e 5 che diventano stanziali ma in realtà anche queste 5 diventano a loro volta stanziali proprio perché non si riescono a spostare perché il numero di vicini è più alto e quindi il numero di stanziali lo possiamo recuperare dal fatto dal controllo di questa if e in particolare dal valore di questa variabile quindi il numero di persone stanziali è dato da n persone meno le persone che si sono spostate quindi migranti per stato per vicini punto size se per caso questa migranti per stato capiti che sia 0 e beh questo termine nella nella differenza non c'è e tutte le n persone diventano stanziali e viceversa sarà il 50% ok? allora Manuel chiede come gestiamo il resto della divisione e Giovanni dice non dovremmo calcolare anche il resto esempio 40 diviso 3 diciamo che questo allora come gestiamo il resto della divisione facendo questo troncamento salvando la divisione in una variabile int questo in automatico ci fa il troncamento prendiamo il il resto della divisione diciamo così lo scartiamo e poi con questa istruzione qui in automatico il resto della divisione va a finire istanziali no? e questo risponde anche alla alla domanda di di Giovanni ok spero sia chiaro nel senso che appunto facciamo l'esempio del 40 diviso 3 che c'è nel testo ops allora noi facciamo 40 diviso 3 vicini abbiamo 13 persone per stato d'accordo? e quindi qui avremo poi calcolando gli istanziali un 13 per 3 che fa 39 d'accordo? e quindi faremo 80 il numero di persone iniziali sì 80 meno 39 e vedete che quell'1 lì quel resto della divisione va a finire istanziali perché 80 meno 39 fa 41 quindi succede tutto in automatico diciamo così e se n persone dispari non credo cambi niente come chiede Alessandro tutto funziona nello stesso modo quindi ho calcolato gli istanziali e qui viene cioè viene il bello della mappa perché io posso usare la mappa in modo semplice dis.stanziali devo sovrascrivere il valore delle persone istanziali nello stato di questo evento cioè ok ora le persone eventualmente si sono spostate queste le faccio rimanere nello stato in cui siamo lo stato in cui siamo è stato quindi dis.stanziali.put stato virgola dobbiamo fare un update quindi recupero il valore che c'era dis.stanziali.get di stato e a questo valore ci aggiungo stanziali ok quelli che ho calcolato qui abbiamo un update perché ricordo le persone si muovono e possono ritornare più volte nello stesso stato e ci siamo vedete che comunque prevedendo un solo tipo di evento il codice che ho scritto non è molto magari mettiamo un commento esempio caso limite però bisogna stare attenti a ragionare bene sulle specifiche non perdersene nessuna per il resto è abbastanza compatta come come soluzione ok dobbiamo prevedere dal simulatore anche due metodi per recuperarci i valori di output quindi sicuramente qui avremo un public map di country integer get stanziali e qui ritorniamo di spunto stanziali questa mappa che costruiamo mano a mano e poi come output dobbiamo anche ritornare il numero di passi simulati quindi dobbiamo ritornare quel t public integer get t return this punto t ecco su questo t non abbiamo ancora fatto molto anzi non l'abbiamo proprio usato qua dentro quindi t conterrà sempre meno uno dobbiamo trovare il modo di valorizzare questo t una possibilità è qui quando simulo un evento ogni volta sovrascrivere questo valore di t con il t dell'evento questo modo i conterrà alla fine della simulazione il t dell'ultimo evento che ci indicherà il numero di passi simulati Corinne chiede se posso rispiegare questa parte di run non so se intendi tutto il run o una parte in specifico per farla breve io ho la mia coda in cui all'inizio c'è un unico evento il fatto che mille migranti arrivano arrivino nello stato di partenza e va bene quindi prendo questo primo evento e lo simulo quindi lo estraggo dalla coda e lo simulo cosa faccio? vado a recuperarmi tutti i vicini di questo stato di partenza e mi calcolo quanti migranti di questi mille che sono arrivati nello stato iniziale si debbano spostare in questi vicini allora quanti migranti si spostano? il 50% perché l'altro 50% diventa stanziale e di questo 50% si dividono in parti uguali e quindi divido ancora per vicini punto size questa operazione qui mi dà il numero di migranti che si devono spostare in ogni stato vicino allora se questo valore è maggiore di zero io semplicemente vado a creare un nuovo evento quindi questa coda si riempie dinamicamente per ogni stato confinante in cui dico ok al tempo t più 1 in questo determinato stato confinante arriveranno migranti in questo numero di migranti e creo l'evento sarà poi l'evento stesso a a sua volta andare avanti e creare potenzialmente altri eventi fatto questo quindi quando le persone si sono spostate io posso calcolarmi il numero di persone che sono rimaste come faccio beh semplicemente sottraggo dal numero di persone che erano arrivate mille in questo caso il numero di migranti che si sono spostati per ogni stato per il numero di stati confinanti faccio questo perché appunto c'è il caso limite non posso dire che stanziali uguale a n persone fratto 2 quindi il 50% perché ci sono casi in cui gli stanziali potenzialmente sono più del 50% quando il numero di persone non è sufficiente diciamo così a soddisfare diciamo così tutti i vicini quindi in questo caso tutti diventano stanziali Luigi chiede non potevamo fare direttamente return del gett dell'ultimo elemento della coda dato che abbiamo aggiunto man mano di eventi con t più 1 no perché quella coda poi è vuota quindi no ok dobbiamo tenerne traccia in questo modo io direi che abbiamo tutto possiamo collegare al model Federico chiede ancora come mai la rig 80 facciamo put non gett per aggiornare direttamente il valore nella mappa no facciamo una gett prendiamo il valore che c'era in precedenza ci aggiungiamo il valore delle nuove persone stanziali e però per sovrascrivere dobbiamo fare una put non basta una gett quindi con la put andiamo a sovrascrivere quello che c'era quindi questa roba qui con questa roba qui ok possiamo collegare al modello direi anche qui avremo un metodo public void simula che farà un po' da passacarte verso il simulatore riceverà probabilmente dal controller lo stato di partenza non abbiamo ancora nessun simulatore qui nel modello quindi dobbiamo dobbiamo crearcelo prima però rispondo alcune domande se no poi me le perdo Giuseppe chiede mi scusi ma essendo un integer un oggetto io facendo una get dalla mappa non otterrei un riferimento all'oggetto integer e quindi modificando quell'oggetto restituito dalla mappa modifico anche il valore nella mappa aspetta andiamo sul simulatore non credo non credo possa funzionare puoi fare una prova non credo possa funzionare per oggetti di questo tipo modella esatto perché come dice Mario integer è un oggetto immutabile quindi se fosse un oggetto nostro quindi con una classe che ci siamo definiti noi il tuo ragionamento andrebbe bene ma per oggetti tipo string integer double quella di maiuscola questo non funziona perché sono oggetti immutabili ok quindi è fondamentale questo appunto Giorgio chiede se posso far vedere l'inizializzazione di stanziali certo l'inizializzazione di stanziali è qui eccola qua imposto inizialmente tutti gli stati a zero e Giorgia infine chiede anziché creare una classe simulatore possiamo fare tutto direttamente nel model certamente sì quindi torniamo un attimo sul model dicevamo qui nel modello ci serve un simulatore me lo definisco come attributo e magari nel costruttore del modello ne vado a fare la new da non dimenticare altrimenti null pointer exception ok e poi qui in simula facciamo sim.init a cui passiamo il nostro nodo di partenza e il nostro grafo me l'ha già creato lui me l'ha già messo lui in automatico e poi sim.run magari facciamo questo solo se grafo è diverso da nullo quindi se noi non abbiamo ancora creato il grafo non possiamo simulare niente questo ci evita possibili eccezioni non basta simulare perché poi al controller dobbiamo anche ritornare l'output e allora anche qui possiamo prevedere due metodi passacarte chiamiamoli così public void non void scusate ad esempio integer gett che ci ritornerà semplicemente sim.gett e poi un altro metodo per ottenere gli stanziali allora ecco qui che viene il la cosa dell'ordinamento allora il get stanziali di del simulatore ci restituisce una mappa ci restituisce una mappa perché abbiamo visto questa mappa ci era utile durante la simulazione noi però l'output lo vogliamo ordinato e allora qui potremmo fare il nostro lavoro dell'ordinamento riceviamo una mappa dal simulatore e la ordiniamo in qualche modo qual è il modo più semplice per fare questo e beh crearci qui la nostra lista di country and number cioè a partire dalla mappa noi creiamo una lista di country and number la ordiniamo e la restituiamo forse non è il metodo più efficiente ma va bene così quindi recuperiamoci la mappa dal simulatore distanziali uguale sim punto get distanziali ci creiamo una lista di country and number result uguale new linked list o array list fa lo stesso e per ogni elemento della mappa andiamo a creare un oggetto country and number da aggiungere al result quindi dobbiamo scorrere la mappa for ad esempio country c in stanziali punto keyset per ogni chiave presente nella mappa io mi vado a creare un oggetto country and number cn uguale a new country and number di che cosa di c della chiave e del suo valore che recupero a sua volta dalla mappa stanziali punto get dc aggiungo questo oggetto la mia lista result add cn e prima di ritornarla questa lista la ordino result return result è chiaro ora fortunatamente il nostro ordinamento che vogliamo qui in questo punto è uguale all'ordinamento che veniva richiesto per il punto 1c quindi siamo fortunati possiamo fare la collections punto sort che sfrutterà il compare to definito qui della classe se questi due ordinamenti fossero stati diversi a quel punto avremmo dovuto utilizzare altri metodi creandoci non implementando il comparable ma creandoci volta per volta i compare to noi però siamo fortunati e tutto funziona bene così allora Giovanni chiede instanziali non teniamo già conto dell'n del country tramite n persone non mi è chiara la tua domanda e quindi senza e quindi fare put o replace solo distanziali senza la somma col precedente allora torniamo qui sul simulatore instanziali intendi in questa variabile in questa variabile sono le persone che si spostano a un determinato tempo t ok però come detto queste persone possono anche tornare indietro e quindi queste sono le persone che si spostano in un determinato stato al tempo t ma non c'entra niente con il numero totale di persone che sono stanziali in quello stato potenzialmente in uno stato ci sono già n persone stanziali ne arrivano delle altre durante la simulazione di queste altre qualcuno si sposta e qualcuno si aggiunge agli stanziali che c'erano già quindi è necessario fare quest'update tenendo conto del valore precedente direi che abbiamo tutto quindi ancora Marco chiede facciamo un controllo per evitare di aggiungere alla lista ordinata tutti gli stati che hanno zero come stanziali impostati all'inizio hai ragione sì possiamo poi filtrarlo dal controller oppure possiamo filtrarlo direttamente qui quindi facciamo una if qui giustamente if c punto no scusate stanziali punto get di c se questo numero è maggiore di zero allora creo il mio oggetto counter il number altrimenti no perché giustamente il testo ci dice restituisci solo valori che siano maggiori di zero e quindi va benissimo fare questo controllo qui dobbiamo fare questo controllo perché nel simulatore abbiamo inizializzato una mappa con tutti i valori a zero e potrebbero esserci degli stati in cui non arriva nessuno Giovanni mi sono perso la new di simulatore la si fa nel costruttore del model sì quindi nel costruttore faccio la new del simulatore proviamo a collegare tutto al controller quindi abbiamo già l'input dell'utente e dobbiamo qui simulare il tutto quindi richiamiamo il metodo simulate del del modello dis.model punto simula partenza non so perché l'ho chiamato con la S maiuscola fatemelo rimettere in minuscolo model dove dove eccolo qua minuscolo e una volta simulato posso andarmi a recuperare i valori di output quindi posso innanzitutto stampare txt result punto append text il numero di passi simulato simulati che è dato da dis.model punto gett poi un po' di slash n per andare a capo poi per ognuno dei country and number stampo la riga for country and number cn in dis.model punto get stanziali stampo txt result punto append text cn punto to string la to string l'avevamo già definita prima quindi può andare bene più slash n ok quindi ho richiamato la simulazione poi mi sono preso i due output e li ho stampati Giovanni Giovanni dice dobbiamo riempire la combo box però ah è vero forse è vero non era ancora riempita infatti se lancio il programma calcola confini 2000 sì esatto la combo box è vuota quindi quando noi clicchiamo su calcola confini dovremmo anche popolare la la tendina d'accordo allora nel mio controller la tendina è combo box contiene già ha già il tipo giusto country quindi qui se riesco a creare il grafo devo dire box country punto box country si chiama no box nazione punto get items punto add all di che cosa tutti i country presenti nel grafo chi mi può dare questa informazione beh il modello dis.model punto get non ce l'abbiamo ancora e va bene lo faremo get countries non ho ancora questo questo metodo quindi lo faccio generare da eclipse create method e possiamo dire se il grafo è diverso da null no innanzitutto è una lista o una collection di country if dis.graph diverso da null return noi questi country li possiamo prendere dal graph quindi dis.graph punto vertex set ok è un set e non una lista va bene mettiamo set e se il grafo è nullo ritorno semplicemente null volendo fare i precisi si potrebbe pensare di restituire una lista ordinata magari alfabeticamente di country e quindi dovremmo prendere il set metterlo in una lista e ordinarla però non abbiamo più tempo se volete fatelo fatelo voi va benissimo così quindi nel controller quando creo il grafo riempio anche la tendina vediamo un po' se funziona anno 2000 creo il grafo ok la tendina si è riempita anche se non in ordine alfabetico ma va bene proviamo con uno stato che abbia dei confini via terra argentina simula sì sembra sembra funzionare quindi quattro passi simulati vediamo è interessante vedere il primo stato l'argentina dove inizialmente sono arrivati mille migranti d'accordo al primo passo 500 sono divenuti stanziali e gli altri 500 sono andati via è interessante vedere che qua abbiamo in realtà 553 e questo non è sbagliato ma ci fa capire che in qualche punto della simulazione qualcuno è tornato indietro e qualcuno è tornato indietro ed è rimasto stanziale in Argentina quindi sembra sembra funzionare direi che siamo a posto Enrico chiede se posso far vedere ancora una volta il do simula eccolo qua nel do simula faccio il simula e poi mi prendo i valori di output get t e get stanziali e li stampo anche Alessandro fa la stessa domanda io direi che possiamo stoppare la registrazione vi ringrazio per l'attenzione se qualcuno ha ancora domande può rimanere collegato e rispondo grazie grazie